Ciao, in questo video ti propongo un'attività veramente carina da proporre ai tuoi bambini, specialmente in questo periodo che siamo costretti a stare un po' a casa, magari un'alternativa al tablet e alla tv. Per realizzare questo progetto ti occorrerà del materiale facilmente reperibile, ma probabilmente ce l'hai già a casa. Ti occorreranno delle cannucce, io ho usato queste di carta, ma vanno bene anche quelle di plastica, del cordoncino, oppure filo di spago, oppure il filo di lana, forbici, penna e un righello. Andiamo a vedere subito come si fa! Grazie a tutti! 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 concentrazione e soprattutto con la coordinazione mano-occhio. Mi raccomando allora se rifai questi braccialetti taggami su Facebook o Instagram e mi trovi con Agatha Sci che non impegna e se ti va puoi seguirmi anche nel mio canale YouTube sempre con lo stesso nickname Agatha Sci che non impegna.